Allora io penso che comunque noi pian piano muoveremo verso l'embargo e questo ci costringe Putin stesso come ci ha costretto a questo l'ultimo pacchetto dei sanzioni dopo immagini di buccia. Lo dico anche perché oggi tutto il giorno la tv russo e dei talk show stanno difendendo un avvertimento, cioè la notizia che gli ucraini come dicono loro con l'aiuto degli americani stanno per fare l'attacco chimico nella regione di Donbass. Dicono che sotto pericolo ci sono 100.000 persone e raccomandano gli abitanti di Donbass in raggio di 300 km di chiudere le finestre. sappiamo che quando la tv russa comincia a muovere in questa direzione stanno per compiere un attacco che a sua volta poi da noi richiede la risposta. Ecco perché penso che la temperatura della guerra si aumenterà che a sua volta ci comporterà ad imporre nuove sanzioni. però in caso del gas penso comunque che la russia giocherà in controattacco, cioè appena sentirà che stiamo per mettere sanzioni sul gas saranno loro a staccarlo. generale camporini